Hai visto come sono bravo? Ma siete fidanzati ufficialmente? Insomma, diciamo che mio padre non vuole. Dormerò, Ciccio! T'aspetto! Almeno ci provo da un po'. Come ti chiami? Gioffredi Francesco. Per gli amici, Ciccio. Ma che fai? Ciccio d'amburo. Damburo, Ciccio d'amburo. Ma se Dio vuole bene a tutti, perché a me non mi vuole bene? Ma che dici? Io ti voglio dire, ma c'è tutto peccato. E vedo gli occhi tuoi diretti. Voglio andare al conservatorio. Io voglio diventare un grande battitista. Ma che è? Sto a cammino! Hai visto cosa me l'hai fatto diventare, questa minchia di musica? Razzami! O se ne va lui o me ne vado io. Dove dovrebbe andare, secondo te? La scheda ti chiede quanti anni hai e tu cosa hai risposto? 83. Il ragazzo per ora resta qui, in osservazione. Non sono pazzo. Andiamo via, mamma, ti prego. Nessuno ti vuole bene, nessuno. Se ti aiuta a prendertela con me, fai pure. Ma tu non sai quanto soffre per mio fratello. Mamma, aiutami, ho paura. Oh, se ci sta bello e bravo come te, non piange. Queste questioni farò a diventare un po' giusto. Eh sì, certo che ci creda. Bravo, bravo! Che mi trascino su e hai ragione perché si cade più veloce se si cade in un due. Se si cade in un due.